ok questo era il look di oggi e spero vi sia piaciuto ah se vi è piaciuto lo specchio che ho usato con le luci vi lascio il link in info box così lo ordinate e noi ci vediamo nel daily vlog di domani e ricordatevi che a 20.000 iscritti mi tingerò i capelli di fucsia fucsia ragazzi quindi iscrivetevi lasciate mi piace e ciao cuoricini iscriviti al canale iscriviti al canale a 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